16 paesi hanno ricevuto il via libera finale per i loro piani nazionali di rilancio dai ministri delle finanze europei, il che significa che questi 16 stati membri inizieranno a ricevere la prima tranche di denaro dal pacchetto di ricostruzione europeo entro poche settimane e a breve il primo 13% dell'importo richiesto. E' davvero un grande giorno ma ovviamente questo giorno ha anche degli obblighi per gli stati perché ora è importante come raggiungere gli obiettivi, come raggiungere tutti gli obiettivi che sono in questi piani. Importante anche non la quantità ma la qualità del denaro, questo significa che è importante come questo denaro verrà investito. Bruxelles metterà a disposizione degli stati membri un totale di 750 miliardi di euro nei prossimi anni per rilanciare l'economia nell'ambito del programma Next Generation EU. Ad oggi un totale di 25 stati membri hanno presentato i propri piani nazionali di risanamento con Bulgaria e Paesi Bassi assenti, 17 piani già adottati dalla Commissione europea tuttavia nel caso di uno Stato membro, l'Ungheria, si è deciso di prorogare il termine per la valutazione. Secondo il governo ungherese questa misura è ingiustificata. I documenti relativi al fondo di recupero ungherese sono ottimi documenti, non c'è alcun motivo per nessuna istituzione dell'Unione europea di respingere o procrastinare il piano ungherese. Le trattative sono in corso, mescolare politica e finanza sarebbe ovviamente inaccettabile se così fosse. Il governo ungherese è sotto attacco a causa dell'opacità degli appalti pubblici, dell'alto rischio di corruzione e della nuova legge anti-LGBT. Tutto questo, anche se non ufficialmente, sembra complicare l'iter.